tecnologie per le relazioni introdotte con i sistemi di crm oggi sono esplose in applicazioni software realizzate mediante il cosiddetto web 2.0 la tecnologia diventa veicolo di relazione fondamentale per avviare processi di fidelizzazione dei clienti possiamo quindi pensare di utilizzare per creare ad esempio i legami di comunità per utilizzare questa tecnologia dobbiamo destinare da subito almeno parte degli investimenti previsti per la produzione nella creazione di applicazioni su web che consentono il consolidamento di relazioni umane e poi economiche a lungo termine con il client